Volete diventare campioni mondiali di scrittura veloce? Abbiamo una soluzione per voi. Logitech MX Keys Mini, tastiera che si adatta a qualunque tipo di dispositivo, anche l'iPad. Si ricarica e ha delle funzionalità davvero speciali. Ecco quali. Benvenuti da Mr. Gadget e da Tecno Laura. Qualche giorno fa vi abbiamo presentato la tastiera MX Keys Mini di Logitech, un accessorio molto completo che risulta particolarmente interessante perché si adatta ad un uso stanziale in scrivania o in ufficio. Ma grazie alla sua dimensione compatta e al peso contenuto, si presta anche ad essere usata in mobilità. Oh, io butto lì un piccolo suggerimento. Questa potrebbe essere la tastiera ideale da utilizzare con iPad Mini. Quello che ci piace tantissimo è che questa keyboard presenta dei tasti davvero intelligenti, il cui funzionamento è allo stesso tempo semplice e molto sofisticato. Anche l'illuminazione è smart per MX Keys Mini. I sensori di vicinanza infatti illuminano la tastiera solo quando si avvicinano le mani e quindi viene rilevata la loro posizione. Non solo perché i tasti retroilluminati si adattano anche all'ambiente e si spengono automaticamente quando si allontanano le mani o quindi ci si allontana dalla tastiera e tutto questo per risparmiare batteria. Ah, dimenticavi che l'intensità della retroilluminazione può essere impostata in modo automatico, con cui si adatta alle condizioni di luce, o manuale, scegliendo il livello di luminosità preferito. Una ricarica completa di MX Keys Mini dovrebbe garantire l'uso per 10 giorni e addirittura 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Questo è possibile anche grazie alla connettività semplificata, che in questo caso è tramite Bluetooth Low Energy. Il livello di carica è indicato qui tramite indicatore luminoso. C'è un altro dettaglio che è importante sottolineare, ovvero che MX Keys Mini non usa le batterie, ma un sistema di ricarica tramite cavo USB-C. Sembra un dettaglio insignificante, ma se ci pensate bene cambia drasticamente il reale costo della vostra tastiera. Ci sono sul mercato prodotti con prezzi più competitivi, ma spesso funzionano con due o quattro batterie, che vanno cambiate con una discreta frequenza. Moltiplicate il prezzo delle batterie per il numero di sostituzioni che verosimilmente farete negli anni e potrete calcolare il reale costo completo della vostra tastiera. È vero e non solo, perché oltre alla questione del risparmio c'è anche quella della praticità, perché ricaricando attraverso un cavo USB-C avrete lo stesso connettore che viene utilizzato per tutti gli smartphone più recenti e anche per moltissimi computer oggi in circolazione. Le ragioni per scegliere la nuova MX Keys Mini di Logitech sono davvero moltissime. Vi rimandiamo al nostro prossimo video per approfondire altri elementi importanti e probabilmente quello fondamentale. Come funziona quando si digita? Io sono ricomparso come per magia per dirvi a prestissimo da Tecno Laura e da Luca Viscardi. Ciao!